Questo incontro alla Camera di Commercio insieme alle Forze dell'Ordine, ai rappresentanti della Prefettura è stato voluto proprio dalla delegazione dell'Associazione Antiracket Libere Terre di Bivona per promuovere una serie di iniziative e comunque essere attivi. Sì, rilanciare e tenere sempre alto l'attenzione su un problema vitale per lo sviluppo economico di questa terra e per lo sviluppo economico della nostra provincia. Praticamente noi diciamo no all'estorsione, noi diciamo un no fermo a tutto quello che è il malaffare a quello che è un'impresa non sana. L'impresa si può fare solo ed esclusivamente avviando un unico percorso che è quello della legalità, che è quello della lealtà, che è quello dell'onestà. Noi come Camera di Commercio che siamo la casa degli imprenditori e rappresentiamo di conseguenza tutti gli imprenditori della nostra provincia, siamo accanto sia all'Associazione Libere Terre di Bivona che si è appena costituita nel mese di maggio, sia a tutti coloro i quali vogliono fare associazione anti-racket, ma quello che è più importante è che noi lanciamo un messaggio non solo a coloro i quali si sono ribellati, hanno già avuto questa forza, ma anche a coloro che possibilmente subiscono in silenzio e devono avere questa forza, questo coraggio di ribellarsi, tenendo conto che l'unica possibilità di salvezza economica di questa provincia sta proprio in questo percorso di legalità. L'incontro è molto importante per noi e sicuramente per tutta la provincia e per chi è imprenditore, perché quando già si parla di legalità è una cosa importante. Incontrarci con la Camera di Commercio per noi è stato un obiettivo molto importante, perché da lì sicuramente nasceranno tanti incontri con imprenditori e commercianti, con tutta la provincia. Noi siamo qui e saremo sempre qui presenti nel territorio di dotare più che altro chi soffre in silenzio. A riguardo al discorso di denunciare, io dico soltanto una cosa, se un commerciante, un imprenditore riesce a levarsi questo peso dallo stomaco, questo peso che lo schiaccia, sicuramente arriverà a casa e riuscirà a guardare i figli negli occhi e dire sono un uomo libero.